E in questi tempi non è facile organizzare fuori sta pesticciola, perché così non è. L'usacco di incartamenti, l'usacco di firme, l'usacco di proposte. Ve la chiediamo per l'ultima volta. Il vostro accompagnamento con le mani a tempo. L'usacco di incartamenti, l'usacco di incartamenti. C'è un pizzi, e n'è fra il suo cavo. C'è un pizzi, e n'è fra l'usacco di incartamenti. C'è un pizzi, e n'è fra l'usacco di incartamenti. C'è un pizzi, e n'è fra l'usacco. C'è un pizzi, e n'è fra l'usacco di incartamenti. C'è un pizzi, e n'è fra l'usacco di incartamenti. C'è un pizzi, e n'è fra l'usacco di incartamenti. L'usacco di incartamenti. C'è un pizzi, e n'è fra l'usacco di incartamenti. C'è un pizzi, e n'è fra l'usacco di incartamenti. C'è un pizzi, e n'è fra l'usacco di incartamenti. C'è un pizzi, e n'è fra l'usacco di incartamenti. C'è un pizzi.